Ciao a tutti, mi chiamo Sandor Alexandru e sono un futuro giardiniere in quanto sto aspettando di ottenere l'abilitazione professionale per poter aprire partita IVA. Vivo nel sud Milano e ho deciso già da ora di mettermi a studiare varie cose che poi in futuro mi aiutassero a mandare avanti l'azienda e quando sono incappato nel corso di AgriCoach che ho deciso davvero come primo corso che ho comprato nella mia vita non mi ha deluso non mi ha deluso perché è spiegato molto bene, l'ho già finito praticamente, mi manca solo quella lezione con il professor Tracanzan e l'ho finito però è completissimo, mi ha dato veramente tanto ed è un investimento alla fine, quei 190 euro che ho speso nel tempo ritornano perché ci sono davvero delle idee e dei concetti fondamentali che a me o comunque a chiunque possono aiutare e niente, ve lo consiglio, ve lo consiglio vivamente ciao a tutti